Bentornato sul mio canale e come sempre se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti al canale e naturalmente attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutti i video che vado a mettere. Oggi parleremo dell'ascensione. L'ascensione è un processo fondamentale per ogni personaggio perché permette non solo di inalzare l'iniziale level cap ma anche le sue statistiche di base. Inoltre ascendere gli eroi permette loro di sbloccare nuovi talenti. Non è possibile invece sbloccare nuove costellazioni tramite l'ascensione dei personaggi. L'unico modo per ottenere di nuove infatti risulta essere esclusivamente il trovare più copie dello stesso personaggio tramite il gacha. Dovrete quindi utilizzare molti wish se volete sbloccare nuove costellazioni. Come prima cosa vi devo dire che l'ascensione potete farla quando arriverete, almeno la prima ascensione, a livello 15 del livello di avventura. Però il vostro personaggio dovrà aver raggiunto il livello 20. Il primo livello di ascensione vi consenterà di superare il livello 20 e arrivare al massimo al livello 40. Il secondo livello invece vi porterà al massimo fino al livello 50. Non è ancora ben chiaro come funzioneranno i successivi 4 e fino a che punto potremo potenziare i nostri personaggi. Ma basterà aspettare per i futuri aggiornamenti di questo splendido gioco. Per poter ascendere con il vostro personaggio naturalmente dovete aver raggiunto il livello 20. Poi fate tasto C e in basso scendetto, ascended. A questo punto vi saranno richiesti dei materiali. Una volta che avrete raccolto tutti i materiali necessari potrete fare ascendere il vostro personaggio. Una volta fatto questo il level cap non sarà più livello 20 ma sarà livello 40. Non sempre avremo i materiali a disposizione come in questo caso. Bisognerà cercare i materiali girando tutta la mappa. Si potranno trovare nei vari screen, nei dungeon o come drop dei nemici uccisi. Potrete anche acquistare nei vari negozi che incontrerete completando le cacce o come avventura Rank Reward. Anche se in quest'ultimo caso sembra che gli unici materiali che vengono consegnati siano esclusivamente quelli del protagonista. Potrete comunque vedere tranquillamente dove trovare gli ingredienti necessari dell'ascensione. Sempre dal menu di level up dei personaggi. Vi basterà premere il tasto su per aprire l'ascensione Material Preview e da qui selezionare i dettagli. A questo punto se vuoi dare la tua opinione sul gioco o fare qualche domanda fammela pure nei commenti. Vi ricordo come sempre naturalmente di mettere un bel mi piace a questo video. Vi ringrazio per la visione e alla prossima. Ciao a tutti!